Grazie Grazie Che forte Ciao caro Faccio il spritz Faccio il spritz E sono pieno delle mosche in cucina E' un problema Il problema delle mosche in cucina Compri il tuo spray Ma la si tutto Guarda che si vede il nostro Si vede il nostro Ciao ci vediamo E come si andava con le mosche in cucina Come si andava a risolto il problema Tutti quanti a cagare in salotto E a Gina E Pino Che lui ha partorio Il porcetti Haga portare a Venezia Abilitare la città E io cagare con il porco E Gheito E mi dava un billetto Anzi se mi dava due E mi dava due billetti E non mi dava andare E se è quasi mio E mi dava due billetti E mi dava due billetti E mi dava due billetti Che mi pago E mi vado E cagare con il porco E la faccenda E si fa a qua Adrio E ora Mi chiamo geometra Vito geometra E qua E che c'era una fatta Nooo Non c'era una fatta E 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 mi dava due billetti E mi dava due billetti E mi dice E mi dice Casi mio Dove devo andare E mi pago Ma dove vado Casi mio E non c'era una fatta I John E non c'era una fatta I구 E questa fatta E corsa E non c'era una fatta E mi dice E mi dice Sì Ma E non c'era una E non c'era una fatta Questa tanto ma non si vediamo qua, vedo scuro, posso dire che si fa, sono pieno dei problemi, sono pieno del dottore e ora si fa, ha fatto gli esami e ha detto che sarà 10-15 anni che con l'AIDS e tutto che sia fa, le 25 che con l'Inps Campo Santa Margherita aveva molti ubriaconi c'era il patacheo, il papuccia, voglio morire il fascista, Marietto Celentano allora il patacheo aveva un cappotto marrone chiaro che durava tutta l'estate e tutto l'inverno i pescatori del campo lo lavavano con la pompa e mettevano la pompa dentro tra cappotto giacca, giacca, camicia, camicia, maglietta e lui faceva e dopo ritornava vivo, ma meglio è il Memo Canevas, che uccide la moglie tenta di ucciderla perché trova un calzino giallo dentro alla biancheria intima, non è mio il calzino e tenta di ucciderla, la butta dal filo della luce, lei cade sul filo, non muore, tre anni sentato omicidio quando ritorna dalla galera non trova più le sue due osterie, vi viene fallito e va a portare i carrelli a campo Santa Margherita il papussa ti ricordi il papussa? il papussa spendeva la sua pensione per leccare la figa alle vecchie non si ricordi? ahia yes wonderful world yes wonderful world I can't stop voglio morire voglio morire era il famoso ogni tanto faceva una corsa e dopo voglio morire voglio morire era un ubriacone uno dei nostri famosi quindi papussa voglio morire è il fascista patacheo e Berto Chichirichi Berto Chichirichi si metteva alle cantine in cima appoggiava il braccio Berto Chichirichi cantina in cima Berto Chichirichi cantina in cima cominciava ti ricordi Berto Chichirichi allora metteva il bianco in the table in the table in the table cominciava lo guardava lo guardava assa stai perché c'era voglio ma non posso no assa stai e dopo ogni tanto perché Berto Chichirichi perché faceva Chichirichi ogni tanto dopo prendeva dopo prendeva il bicchiere prendeva il bicchiere così qua metto Don Becchensi e dopo lo guardava un quarto d'ora dopo faceva tutta una sciata lo metteva giù Pasqual un altro però prima però prima metteva i soldi perché il vero ubriacone prima paga e dopo e dopo perché sennò quindi soldi sul tavolo e dopo Pasqual un bianco Pasqual un altro perché sennò Nicodava quando lui aveva il momento di panico faceva ah non so se ti ricordi ah quando gli andava su perché c'era io Pasqual appoggiava il dito con dito alto assa stai assa stai e dopo si saldizzava aveva qualche momento di lucidità e dopo da nuovo assa stai e dopo di nuovo di nuovo e dopo da nuovo assa e dopo stava 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 Pasqual un'altra ombra e stava di nuovo e la guardava Pasqual era il nostro Pasqual un'altra ombra sono il telefono sono il telefono pronto 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 dimmi Carlo il nono il nono il nono il nono io l'ho visto adesso dove c'è? il nono io l'ho visto adesso con il giornale sotto il braccio è perché sia stai il times eh il times ora considerando che non c'è l'inglese pensi che si andai il cesso ciao Doni ciao Non capisco perché il nono ci ha riuscito. Non si è giocato, non si è giocato, non si è giocato.